Buongiorno, benvenuti a questo primo evento del mese dell'educazione finanziaria organizzata dal progetto DARE in cooperazione con l'iniziativa per l'educazione finanziaria l'October EduFin di Banca d'Italia. Benvenuti appunto a questo primo appuntamento. Lascio subito la parola all'assessore Uded Baccali del comune di Ravenna per un'introduzione sul progetto e alla giornata. Grazie Francesca e anche io saluto insomma chi ci seguirà in questo webinar e ovviamente ringrazio insomma Jader, Mita e Stefano per averci raggiunto in realtà non è vero nel senso che ci vediamo ognuno dalle proprie postazioni però idealmente ci raggiungono in questo evento che appunto abbiamo promosso come città di Ravenna e come rete che da qualche mese insomma ha in essere il progetto DARE di cui poi dico due cose. Quando ci hanno presentato appunto la possibilità di pensare e proporre alcune iniziative nel mese dell'educazione finanziaria in realtà ci si è aperto un mondo nuovo nel senso che come ente locale non avevamo mai messo in piedi progettualità di questo tipo e devo dire che personalmente non conoscevo ad esempio il portale che si occupa e che raccoglie queste iniziative che è il portale quello che conta, il portale dell'educazione finanziaria e dove tra l'altro insomma già si possono trovare dei contenuti insomma sono, è già un luogo denso di informazioni e appunto di possibilità di formazione anche per i cittadini e le cittadine. Quindi abbiamo pensato che come insomma ente locale soprattutto in questo frangente che ci vede come istituzione a capo di tante azioni complesse dove abbiamo bisogno di spiegare alla nostra cittadinanza che cosa vuol dire appunto progettare o pensare o collaborare all'ideazione di progetti che poi faranno parte del fondo recovery ma anche penso ad esempio a raccontare alla nostra cittadinanza che cos'è la cassa depositi e prestiti e ad esempio come possiamo collaborare con un'istituzione di questo tipo per rigenerare degli immobili che abbiamo all'interno del centro storico. il crowdfunding civico piuttosto che appunto il cofinanziamento pubblico, la finanza sostenibile, sono tutte diciamo sono tutti argomenti che possono incidere e incidono sulla qualità della vita delle nostre comunità e quindi poterle diciamo rendere più accessibili anche in maniera insomma l'educazione divulgativa alle nostre cittadine, i nostri cittadini è qualcosa sul quale vogliamo continuare ad investire. L'educazione finanziaria credo abbia anche un altro potenziale se poi è declinata educazione previdenziale, educazione assicurativa. Gli enti locali e comuni sono il primo fronte e penso ad esempio alle strutture dei servizi sociali dove arrivano le fragilità delle nostre famiglie, dei nostri nuclei, la fragilità delle persone nel costruire percorsi di vita e programmare appunto percorsi che si auspicano di successo. Quindi se possiamo rendere questi strumenti, gli strumenti del risparmio ad esempio, gli strumenti finanziari più noti e accessibili alle persone, forse riusciamo ad incidere anche in quelle fragilità che poi diventano strutturali e che poi diventano a carico della collettività. Quindi sono azioni che pensiamo possono essere utili anche in maniera diretta, non solo in diretta e non solo con un approccio appunto divulgativo di promozione della cultura e dell'educazione finanziaria, ma vediamo in questa azione una ricaduta diretta anche su quello che è proprio la competenza di un ente locale nell'ambito ad esempio dei servizi sociali. Faccio un esempio ma poi ce ne possono essere tanti altri. Quindi ecco, questa era un po' l'idea. Iniziamo, devo dire, con un parterre di interventi importanti perché avere insomma un pezzettino della Commissione europea collegata e che potrà in qualche modo raccontarci alcuni aspetti della programmazione europea credo sia un'occasione importante, anche perché poi ne parleremo credo negli interventi successivi. Ad esempio il Fondo Sociale europeo, i piani di programmazione regionale sono strumenti che toccano in maniera diretta la programmazione degli enti locali ma anche, adesso penso alle famiglie o alle giovani famiglie, dal Fondo Sociale europeo arrivano tantissime risorse che ingirano direttamente. Penso, non so, al voucher per i centri estivi, penso alla formazione professionale. Ci sono tantissimi aspetti e servizi dei quali i nostri cittadini fluiscono in maniera diretta e riconoscerne e alfabetizzarli in qualche modo sulla loro origine rende questi servizi più preziosi e anche necessari in qualche fase di difesa. Quindi grazie e ti ripasso la parola Francesca. Grazie mille, grazie per l'introduzione, sicuramente dei temi rilevanti toccati fin da subito. In effetti l'importanza dell'educazione finanziaria in un'ottica più a 360 gradi, in questo momento è ancora più importante che magari negli anni passati. Ci inseriamo appunto con questa serie di eventi all'interno di un'iniziativa che è molto più ampia, che viene promossa da Banca d'Italia tramite il portale Quello Che Conta e noi appunto, l'European Crowdfunding Network, che è la rete per cui io lavoro che rappresenta l'industria del crowdfunding, siamo quest'anno orgogliosi per la prima volta di poter partecipare con degli eventi inseriti appunto nel progetto dare, che possano portare un piccolo contributo in questo senso. E dunque proprio in questa linea di pensiero ci inseriamo con il primo evento di oggi perché finanza è tutto quello che può servire a supportare il sistema dell'economia reale. E quindi è questo il primo tema che vogliamo toccare. Che tipo di interazione ci può essere tra enti pubblici a un livello europeo o a un livello locale e il sistema finanziario in generale. Quindi il sistema dell'economia reale. Senza dilungarmi oltre nella parte di introduzione, ho piacere di ringraziare e dare benvenuto quindi a tutti gli speaker. Oltre all'assessore Baccali, vorrei dare il benvenuto a Yader Canè, signor expert della Commissione Europea nella DG Employment. Benvenuto Yader. Piacere. Benvenuta anche a Amita Talenti, una ravennate doc, anche lei in forze alla Commissione Europea in DG Employment. Piacere, salve a tutti. E benvenuto anche a Stefano Lambertucci, Commissione Europea, questa volta DG Regio. Benvenuto Stefano. Grazie, buonasera a tutti. Bene, una brevissima introduzione su di me. Sarò la moderatrice di questa sessione. Vi anticipavo, lavoro per lo European Crowdfunding Network, che è una rete che si occupa di crowdfunding, quindi di finanza alternativa. È un tipo di finanza che sempre più si sta avvicinando, non solo al sistema dell'economia reale e alle imprese, ma come ci accennava già in apertura l'assessore Baccalì, ha tutta una dimensione di governance e anche attivazione dei cittadini a livello civico. Come moderatrice mi sento di dare di nuovo la parola per un'introduzione a IADER, perché ci possa presentare il ruolo dell'istituzione che qui rappresenta e la sua rilevanza nel contesto in cui ci muoviamo oggi. Bene, grazie Francesca. Io approfitto per ringraziare te, l'European Crowdfunding Network e il Comune di Ravenna, nella persona dell'assessore, per aver organizzato questo, posso chiamarlo forum, questo incontro online, in un momento in cui è particolarmente importante, particolarmente rilevante comunicare anche al grande pubblico, o comunque un pubblico più vasto degli addetti ai lavori, cosa si sta facendo in questo momento a livello europeo per fare fronte alla crisi che è stata aperta dal Covid. Mi pare comunque che prima di entrare più nel dettaglio dei provvedimenti, delle misure prese per fare fronte a questa crisi che assolutamente era stata inaspettata ed è di una portata che ancora non si riesce a misurare, sia opportuno fare un passo indietro per rispondere un po' a quanto gli interventi di apertura tuoi Francesca e dell'assessore hanno messo in luce, cioè la relazione tra l'economia reale, il supporto dell'economia reale e l'interazione con gli enti pubblici e ciò che queste istituzioni, la Commissione Europea, possono fare per i cittadini. Come diceva l'assessore, che giustamente a mio avviso ha citato il Fondo Sociale Europeo, queste istituzioni o questi strumenti che paiono molto lontani, in realtà possono e spesso hanno un impatto molto vicino al cittadino, come diceva giustamente l'assessore, citando i voucher che permettono, una delle tante iniziative del Fondo Sociale, che permettono ai cittadini di beneficiare, di partecipare a attività le più variate e che sono direttamente o indirettamente a supporto dell'economia reale. Quindi io mi presento brevissimamente, lavora la Commissione Europea, in particolare alla direzione generale EMPL, impiego, cioè occupazione e inclusione sociale, una delle direzioni generali che si occupano non solo di politica, ovviamente le politiche di impiego e inclusione sociale in particolare, ma anche pari opportunità, tra le altre cose, ma anche della gestione dei fondi, dei fondi strutturali, in particolare del Fondo Sociale Europeo, che è intanto il fondo strutturale più antico che abbiamo in seno all'Unione Europea ed è il fondo che si occupa espressamente delle persone, un fondo destinato alle persone, che agisce dalla promozione dell'occupazione, dell'impiego all'istruzione, l'istituzione professionale, l'educazione in generale, l'inclusione sociale, eccetera. Quindi un fondo che è destinato alle persone e che è attivo, si può dire, già dalla fondazione dell'Unione Europea. Prima di venire al presente, all'immediato, è bene dire che questo fondo, come d'altra parte il Fondo di Sviluppo Regionale, di cui vi parlerà certamente il collega Stefano Lambertucci, è organizzato per programmi operativi, programmi operativi che agiscono su base territoriale diversa a seconda di come è l'organizzazione a livello di Stato membro. Per quanto riguarda l'Italia, noi da sempre abbiamo dei programmi che agiscono a livello regionale, cioè un programma per regione in buona sostanza, e alcuni programmi di interesse nazionale gestiti in linea di massima a livello dei ministeri per azioni da mettersi in opera a livello di tutto il paese, in questo caso l'Italia. Ci sono paesi che invece hanno un unico programma a livello nazionale. Credo che questa sia una premessa indispensabile per aiutare chi segue questa giornata a capire quali sono i funzionamenti di questi fondi. Come diceva l'assessore, quindi da un fondo europeo, fondo sociale europeo, noi scendiamo fino a livello regionale, abbiamo un programma operativo che è attivo per la regione Emilia-Romagna, un programma per il fondo sociale, per questo caso, che può finanziare un numero di azioni in determinati ambiti, quindi l'occupazione, l'educazione, l'inclusione sociale, eccetera, che vengono a rispondere alle necessità del territorio e quindi che vengono studiati, elaborati a livello locale, regionale, ma anche provinciale, comunale, eccetera, ma che rispondono a strategie dell'occupazione, dell'inclusione sociale a livello europeo e quindi un'architettura molto complessa, ma un'architettura complessa che mira a spendere le risorse disponibili nel migliore del modo e per rispondere ai bisogni dei cittadini sui territori. Ecco, mi sembrava che questa premessa fosse indispensabile per cercare di inquadrare il momento in cui ci troviamo ora. Il fondo sociale, come d'altra parte, il fondo di sviluppo regionale è programmato per periodi di sette anni. Noi adesso siamo alla fine di un periodo di sette anni, 14-20, cioè se anche non ci fosse stata l'emergenza che stiamo vivendo, in questo momento staremmo negoziando, Commissione Europea, Stati membri, la programmazione, cioè i programmi operativi dei fondi del periodo 21-21-26, cioè dei prossimi sette anni. Quindi in ogni caso sarebbe un periodo molto importante, molto delicato, proprio perché si definiscono le linee operative dei prossimi anni a livello europeo, ma anche a livello locale nell'ambito dei fondi. Però non è così semplice, cioè già sarebbe complesso, ma la cosa è diventata ancora più complessa per la crisi che è stata portata da questa emergenza sanitaria. La crisi che non è solo una crisi sanitaria, una crisi di salute pubblica, ma è anche una crisi socio-economica, perché l'impatto socio-economico che sta avendo il coronavirus è non solo profondo, ma anche probabilmente destinato a durare. In ogni Stato membro, a livello delle regioni e delle comunità, tutti siamo chiamati a reagire, a combattere contro una crisi che è profonda e che va ad impattare soprattutto chi è in una situazione più fragile, più debole. Quindi abbiamo una responsabilità condivisa per mitigare le conseguenze di questa crisi e le ineguaglianze che ciò comporta e direi che questo è il punto base, il punto di partenza delle iniziative che sono state prese e che a livello comunitario che sono state discusse a partire già da marzo, da aprile e che ora sono in dirittura d'arrivo alcune sono già peraltro operative. questo è stato il punto di partenza e veniamo al dunque cosa sta facendo l'Unione Europea? l'Unione Europea e questo è un messaggio che non è passato molto chiaramente sta reagendo dopo forse alcune titubanze in marzo che erano percepite particolarmente in Italia perché l'Italia ha conosciuto ha avuto il triste privilegio di conoscere con un anticipo di almeno due o tre settimane la gravità di questa crisi ebbene quindi la reazione europea è stata di varare un insieme di riforme e di investimenti che è assolutamente senza precedenti se non forse risalendo al piano Marshall del secondo dopoguerra quindi non siamo nella azione ordinaria non siamo in un periodo in cui si negoziano i fondi strutturari per il prossimo settennio abbiamo un un piano di rilancio che ha forse il suo equivalente solo 70 anni 70 anni fa è un piano multiannuale che di 1800 miliardi di euro che sono di investimenti di medio lungo termine e composti sia da investimenti a fondo perduto che sono tipicamente gli investimenti dei fondi strutturali ma anche e questa è stata un'enorme novità di prestiti che vengono negoziati e erogati a livello comunitario e non so se ricordate penso che molti di coloro che stanno partecipando avranno seguito le polemiche in Italia che sono durate anni sui cosiddetti euro bonds ecco quello che si sta facendo non si chiama euro bonds ma di fatto è un debito comune che viene emesso a livello comunitario e credo che sia importante sottolineare che e questo è un grandissimo segno una grandissima prova della solidarietà che c'è all'interno dell'Europa in questo in questo momento ti interrompo perché ci stai anticipando già i temi caldi di oggi e io invece ci tengo che appunto possiamo continuare questo discorso quanto più a lungo possibile grazie mille della appunto della panoramica fondamentale per cominciare a muovere i primi passi Mita anche tu di G Employment anche tu appunto lavori a stretto contatto con Iader ma nello specifico ci puoi raccontare di che cosa ti occupi sì certo buonasera a tutti ringrazio anche io dell'invito per me è molto bello essere qui insieme a voi insieme all'assessora Baccali perché come hai giustamente detto all'inizio io sono Ravennate sono di Ravenna quest'anno purtroppo da quando è iniziata la pandemia a Ravenna ci sono stata poco e quindi è bello poter essere vicino alla mia città almeno virtualmente dunque io lavoro sono una collega di Iader lavoro alla DG occupazione affari sociali e inclusione lavoro anch'io sul fondo sociale europeo e come Iader ha già detto molto bene si tratta di uno dei fondi strutturali della politica di coesione che sono cogestiti in collaborazione con gli stati e soprattutto le regioni europee questo comporta una complessità notevole a livello burocratico perché è un'architettura importante è un'architettura importante perché è stata pensata in questo modo proprio per far sì che i fondi che vengono messi a disposizione dall'Unione Europea vengano spesi nel modo migliore in modo che possano veramente rispondere alle esigenze regionali e locali e l'unico modo per farlo è quello di dargli in gestione a chi veramente lavora in prima linea come diceva prima l'assessora con le persone con le comunità con i cittadini e chi conosce bene il proprio territorio e sicuramente questo non è una cosa che si può fare da Bruxelles quindi in collaborazione con la Commissione Europea questi fondi vengono cogestiti questo comporta un'architettura complessissima una burocrazia purtroppo di cui molti si lamentano e uno dei miei lavori è proprio quello di cercare di semplificare questa macchina enorme che è la burocrazia dei fondi europei in generale ma soprattutto dei fondi strutturali quindi io mi occupo di cercare di snellire tutte quelle procedure che chi ha mai lavorato all'interno di un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o dal Fondo di Sviluppo Regionale conosce bene cioè il dover giustificare ogni spesa dando qualsiasi tipo di appunto giustificativo e documento che può andare dal biglietto dell'autobus se la persona che è stata che ha partecipato al progetto ha dovuto spostarsi il biglietto dell'autobus si può perdere l'inchiostro sul biglietto dell'autobus può svanire nel tempo quindi tutta questa serie di cose noi io nello specifico insieme ad altri colleghi cerchiamo di semplificarla non vado troppo nel dettaglio perché sarebbe troppo però è un lavoro che che dà molta soddisfazione perché sento di poter anch'io aiutare in qualche modo a far sì che questi soldi vengano spesi nel modo più giusto cioè senza concentrarsi sulla burocrazia per quanto possibile ma concentrarsi sulla qualità di quello che viene fatto con queste risorse beh mi sembra assolutamente un un compito fondamentale ti auguriamo io ma sono certa che tante altre persone che ci stanno seguendo in questo momento ti auguriamo successo nello svolgerlo così da renderci appunto tutto il processo di rendicontazione più snello grazie Stefano veniamo a te di nuovo Commissione Europea questa volta però con un taglio un po' diverso prego sì in effetti io lavoro appunto sempre la Commissione Europea ma nella direzione generale per le politiche regionali ed urbane cosiddetta DG Regio quindi approfitto del ottimo cappello introduttivo fatto da mia collega Iader per poter semplificare un po' le cose sostanzialmente la nostra direzione si occupa del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che è uno dei fondi strutturali insieme al Fondo Sociale appunto presentato dai miei colleghi questo fondo il FESR così detto si occupa principalmente di investimenti infrastrutturali diciamo è il classico fondo quando pensiamo ai fondi europei che fa investimenti che vanno appunto dai trasporti alla ricerca alle infrastrutture connessione reti energia piccole e medie imprese e quant'altro allo stesso modus operandi del Fondo Sociale quindi tutto quello che è già stato detto all'inizio come introduzione quindi lavoro sui programmi operativi delle singole regioni su periodi di sette anni quindi ecco esattamente come il Fondo Sociale con appunto un'ottica diversa concentrata sulle infrastrutture principalmente in particolare il mio ruolo è quello di responsabile dentro la direzione generale per le politiche regionali del programma operativo dell'Emilia Romagna per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale quindi sono responsabile dell'avanzamento e dell'attuazione di questo programma dal lato della Commissione ovviamente ci sono colleghi anche che si occupano dal lato della Regione per questo periodo e attualmente siamo in discussione per il prossimo periodo il 2021 2027 come appunto era già stato accennato più in generale ma poi ovviamente entreremo questo nel dettaglio con i discorsi successivi la DG Regio insieme ai nostri colleghi della direzione dell'occupazione sono state le prime le prime risorse umane della Commissione Europea impiegate nella risposta finanziaria all'impatto al coronavirus dico risposta finanziaria perché in realtà la risposta della Commissione è molto molto più articolata oggi noi parliamo della dimensione finanziaria tuttavia la risposta è molto più ampia va dal settore della salute alla ricerca coordinazione degli apparati medici delle comunicazioni trasfrontaliere e quant'altro oggi veramente guardiamo uno spicchio molto importante economicamente senza dubbio più rilevante ma è solo una parte di quella che è la risposta della Commissione del Covid in questa parte senza dubbio noi siamo stati quelli appunto insieme ai nostri colleghi di GMP in prima linea in quanto e adesso uso questo come tramite per le prossime discussioni la risposta della Commissione Europea in ambito finanziario si è articolato in tre fasi una prima fase diciamo di risposta immediata che è sostanzialmente partita circa metà marzo ed è diventata operativa già a partire da aprile e questo era lo scopo proprio di rispondere all'emergenza immediata come vedremo in seguito una seconda fase diciamo a partire da metà maggio ed è ancora in corso di medio termine che è puntata sul recupero e questa è una fase ogni fase ha i suoi propri strumenti che adesso andremo anche a discutere questa fase diciamo si articola in un periodo che va da qui fino al diciamo 2023 poi vedremo perché con il principale strumento che si occupa di questa fase e c'è una terza fase che invece dal medio termine passa sul lungo termine ed è la ripresa anche questo ha un suo strumento apposito la ripresa pensiamo veramente al lungo termine è un percorso che è iniziato diciamo tra maggio e luglio di quest'estate ma punta ad arrivare almeno fino al 2026 con alcune parti di queste che arriveranno fino al 2030 quindi noi della Digiregio come i nostri colleghi Digiremp siamo impegnati in tutte e tre queste fasi in ognuna di queste fasi c'è un determinato fondo specifico che è stato usato per la risposta finanziaria con scopi leggermente diversi proprio in base al periodo target diciamo la fase iniziale la risposta fase di medio termine il recupero e la fase di lungo termine la ripresa quindi mi fermo qua poi ovviamente andiamo nel dettaglio grazie mille io prendo subito spunto da quest'ultimo concetto che ci hai raccontato per tornare da WeDead e riprendere un po' insieme diciamo tornare con la mente per fortuna soltanto al periodo di emergenza immediata è stato un periodo in cui forse prima ancora della prima linea della commissione europea sono stati proprio gli enti locali a dover affrontare tutte quelle emergenze che sono state più d'una e a far fronte alle nuove necessità emergenti del territorio ma di cittadini giustamente accennava prima Iader proprio di quelle fasce magari più fragili della cittadinanza che in una situazione di crisi ne hanno risentito e quindi quali sono state se ci sono state le iniziative del comune di Ravenna in quel periodo dunque ripensare a marzo riporta un tempo che sembra davvero lontanissimo nel senso che credo tutte le istituzioni tutti i livelli insomma dal livello locale appunto a quello che può essere il livello insomma della commissione europea tutti quanti abbiamo lavorato con ritmi velocità che probabilmente non è anche moli di questione di complessità che forse non avevamo mai incontrato perché davvero gli aspetti sono sono stati tanti da gestire come ente locale giustamente hai detto siamo stati il primo fronte quindi quello che insomma dall'emergenza sanitaria alla gestione insomma del rispetto delle regole che i nostri cittadini e i nostri cittadini hanno iniziato a conoscere ed applicare in quelle settimane perché era tutto assolutamente inedito ecco un regime di chiusura di questa portata credo che nessuno lo abbia mai vissuto insomma dobbiamo tornare ecco a tempi davvero lontani per avere un regime di questo di questo tipo io ti dico mi occupo anche di scuola e quindi puoi immaginare ecco qual è stato il rincorrersi della chiusura più che altro di servizi 06 anni e di scuole di tutti gli ordini e gradi quindi si andava nelle prime settimane di chiusure appunto settimanali quindicinali per poi renderci conto che insomma la chiusura sarebbe stata molto probabilmente duratura e per tutto l'anno scolastico quindi abbiamo messo in piedi devo dire qualsiasi tipologia di progetto adesso mi viene in mente abbiamo organizzato la distribuzione con la protezione civile delle strumentazioni digitali alle famiglie che non avevano che non le avevano e per evitare che appunto accedessero alle scuole se girassero per la città abbiamo organizzato la distribuzione con appunto con i volontari penso alla tutte le misure di contenimento rispetto ai tributi locali quelli insomma avendo le risorse abbiamo potuto calmierare tutto quell'impatto che magari sulle imprese che stavano vivendo e stanno vivendo momenti di crisi molto forte poter calmierare questo tipo di tributo è stato fondamentale credo utile anche per per la ripresa che abbiamo visto poi in queste settimane siamo stati il comune che ha anticipato la cassa integrazione per per molti lavoratori per molte lavoratrici penso alla gestione dei bonus spesa per le diciamo gli strati di popolazione più 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 bisognosi abbiamo penso al mio settore settore educativo abbiamo iniziato sin da da aprile a porre sul sul tavolo il nostro sindaco è presidente dell'unione delle province italiane quindi insomma avevamo la fortuna di averlo fisicamente ovviamente virtualmente però seduto al tavolo di concertazione col governo e quindi siamo stati diciamo il territorio che maggiormente ha posto il tema rispetto alla ripresa per la popolazione infantile cioè come riportare i bambini e soprattutto i bambini con disabilità come pensare e ripensare la partenza per loro insomma quindi avevamo lanciato il insomma il nove maggio che è la giornata del insomma dei diritti dell'articolo trentuno insomma della carta dei diritti dei bambini chiedendo che quella fosse la data per per provare a riuscire a portare fuori i bambini a pensare ovviamente in sicurezza come ripartire abbiamo sono state settimane dove abbiamo ipotizzato la regione Emilia-Romagna è stata capofila anche per delineare poi le indicazioni e le linee guida che sono diventate utili anche per il resto del paese rispetto alla riapertura ad esempio dei centri estivi quindi come ripartire con piccoli numeri con piccoli gruppi capire come poter gestire una ripresa una ripresa della socialità e delle attività appunto per la popolazione dei più giovani che poi ci è servito a capire e a essere maggiormente competenti per la ripresa di settembre che per quanto insomma al centro di tante polemiche al centro di tanto insomma non si è mai parlato di scuola come se ne è parlato in questi in questi in questi mesi il che bene perché porre il tema al centro dell'agenda vuol dire forse insomma porre anche il tema quando si si parla e si parlerà di risorse perché abbiamo bisogno di tante risorse per ovviamente per il comparto educativo quindi essere ripartiti d'estate e aver pensato alla ripartenza estiva durante penso appunto ai mesi aprile e maggio ci sono serviti per poi il primo giugno essere pronti alle piccole riaperture ecco quindi i parchi i centri estivi le iniziative per i più piccoli le iniziative anche durante lo stesso lockdown abbiamo iniziato a ragionare anche su tutti gli interventi domiciliari ad esempio a favore dei dei bambini delle bambine con disabilità o con con grosse difficoltà quindi diciamo tutto questo eh universo di iniziative è stato ecco al centro delle nostre eh delle nostre azioni poi ovviamente abbiamo anche imparato ad utilizzare gli strumenti che stiamo utilizzando adesso quindi eh i consigli comunali hanno iniziato a a riunirsi utilizzando questi strumenti la giunta eh provare a portare avanti ecco anche la visione di futuro perché a un certo punto insomma volevamo tutti uscire dal lockdown e quindi sicuramente abbiamo messo in campo eh diciamo tutta la la progettualità e anche l'innovazione ecco che eh che abbiamo potuto e abbiamo ricevuto insomma anche credo le risorse per poterlo per poterlo fare quindi eh siamo in una scia credo e spero eh positiva ovviamente i contagi stanno risalendo e questo non è non è di buonissimo auspicio però credo ecco che abbiamo costruito partendo dal basso partendo dal locale comunità più competenti nella gestione di questo tipo di di crisi e quindi ecco anche eh la maggior comunicazione credo anche si è visto nel dibattito pubblico l'hanno visto i cittadini cioè laddove non non c'è eh accordo tra livello locale quello regionale quello nazionale quello europeo le cose non non vanno e quindi forse non lo so è una speranza forse ingenua quella che magari abbiamo imparato un po' di più ad ascoltarci e a prendere iniziative realmente interistituzionale interistituzionali e eh mettendo in rete i vari livelli di governo bene sicuramente un un esempio di realtà virtuosa quella appunto che ci presentavi proprio nei tuoi esempi eh un esempio di grande lucidità di una forza di reazione estrema eh a questo proposito eh Yader io torno da te proprio per andare a capire eh come invece il Fondo Sociale Europeo perché molte delle iniziative più che altro dei temi che rientravano eh nell'elenco di iniziative presentate da UIDED sono effettivamente in linea con le priorità di finanziamento del Fondo Sociale Europeo e quindi in quel periodo in un periodo di emergenza immediata cosa è riuscita a fare la commissione tramite lo strumento del Fondo Sociale Europeo? Ecco grazie e effettivamente era quello che pensavo mentre l'assessore parlava perché molte delle azioni eh a cui ha accennato sono state è stato reso possibile sostenerle a livello di programmi operativi del Fondo Sociale grazie a un'iniziativa che si è presa molto molto rapidamente è conosciuta come CRI Coronavirus Response Investment Initiative cioè l'iniziativa di risposta al coronavirus e che ha mobilitato una parte di fondi eh che erano diciamo latenti già presenti non eh nuovi fondi ma fondi che non erano utilizzabili sono stati resi immediatamente utilizzabili 37 miliardi e soprattutto sono state rese molto più eh flessibili le regole per la spesa dei fondi strutturali in modo che eh le spese per esempio connesse alla crisi del coronavirus in ambito per esempio sanitario fossero immediatamente eh fossero immediatamente finanziabili ad esempio eh finanziando dispositivi di protezione eh sanitaria per i gruppi più vulnerabili dispositivi di produzione medici misure di prevenzione delle malattie eccetera o eh misure atti a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria per i più poveri ecco questo immediatamente è stato eh reso possibile inoltre sempre elaborando questa misura rapida è stato anche possibile trasferire fondi ed è una cosa che non si fa di solito tra un fondo e l'altro in modo che le autorità locali che gestiscono i fondi possano rapidissimamente decidere dove sono le emergenze e adeguare i programmi operativi alle realtà territoriali in tempo brevissimi ma non solo anche visto che parliamo di finanza è stato reso possibile eh il un tasso di cofinanziamento eh comunitario del cento per cento cioè è stato possibile finanziare negli anni venti e ventuno al cento per cento delle azioni con i fondi comunitari mentre di solito eh questo finanziamento arriva all'ottanta ottantacinque per cento al massimo ma spesso è anche solo al sessanta al cinquanta per cento quindi eh tutto ciò è stato per rendere mh più agevole l'operatività delle autorità che gestiscono i fondi sul territorio non solo ma anche si sono forniti maggiori sostegni agli indigenti modificando le norme del fondo di aiuto europeo agli indigenti cioè il FEAD e quindi è possibile distribuire aiuti alimentari e assistenza al materiale di base mediante buoni elettronici per esempio fornire dispositivi di protezione riducendo il rischio di ehm contaminazione e sempre con misure finanziate al cento per cento ecco questo è stato l'immediato che è tuttora che è tuttora vigente e se però vogliamo vedere anche eh il medio periodo cioè queste iniziative ci sono anche altre iniziative cioè nel eh in questo tra virgolette piano Marshall di cui vi dicevo inizialmente noi abbiamo circa milleottocento miliardi che sono divisi in due grandi due grandi famiglie e il il quadro di finanziamento multiannuale che è eh ciò che di solito abbiamo il rifinanziamento di sette anni di politiche eccetera che è di oltre mille miliardi eh adesso mi pare che sia mille settanta quattro miliardi per il periodo successivo ma oltre a ciò c'è il cosiddetto next generation EU cioè una serie di iniziative che comprendono fondi eh diciamo a da non restituire quindi finanziamenti a fondo perduto e i famosi prestiti di cui accennavo prima a livello a livello eh emessi a livello europeo e quindi a condizioni estremamente favorevoli prima però di presentarvi rapidamente perché non potremo entrare nel dettaglio su tutto e voglio ancora accennare un altro ad un altro strumento che è stato molto rapidamente messo varato e a cui ha fatto indirettamente accenno anche l'assessore quando ha parlato eh di problemi di occupazione lo strumento europeo per il supporto temporaneo per mitigare i rischi di eh disoccupazione nella crisi e nell'emergenza presente che viene ehm definito dall'acronimo SURE sicuro ecco questo ed è un uno strumento che è già stato varato e che grazie a dei prestiti a tassi estremamente agevolati permette di eh una serie di schemi una serie di attività permette di finanziare delle iniziative volte a mitigare i danni eh causati dalla disoccupazione sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi e parliamo di eh di cifre molto molto importanti e tra tutti i ventisette stati membri quello che di gran lunga avrà eh ha come dire ha fatto le richieste e avrà il beneficio maggiore sarà proprio sarà proprio l'Italia quindi anche questo strumento che è al di fuori di quanto stavamo parlando il SURE è stato attivato e dovrebbe avere un impatto estremamente positivo proprio in un punto che è estremamente profondamente critico particolarmente in Italia dove i rischi di disoccupazione di media lunga durata sono grandi sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi questa era una parentesi e adesso presento molto molto brevemente la cosiddetta next generation EU che è questa iniziativa straordinaria e che a livello europeo molti pensavano che non si sarebbe mai presa nel corso della loro vita cioè qualcosa di cui non si aspettava la materializzazione in tempi brevi e cioè un insieme di fondi così a fondo perduto e prestiti per un valore di circa 750 miliardi di cui 390 in sovvenzioni e 360 in prestiti e all'interno di questo enorme pacchetto abbiamo il cosiddetto recovery resilience facility quello che viene conosciuto come rrf cioè l'iniziativa per la ripresa e la resilienza e che è per i prossimi anni ma anche nell'immediato abbiamo il cosiddetto react EU per un valore di poco meno di 50 miliardi che dovrebbe andare a rafforzare come fresh money insomma nuovi finanziamenti i fondi i fondi attuali per promuovere gli investimenti anche nella in una in un'economia più verde più digitale oltre naturalmente al al contrastare la crisi la crisi la crisi in atto ecco questi sono ci sono altri fondi di cui per importi minori ma che comunque sono enormi importi e che vanno ad impattare sulla finanza sullo sviluppo rurale sulla ricerca eccetera a concorrenza di questi circa 750 miliardi ecco io credo che da un lato ci possa essere è giusto che ci sia un compiacimento di quanto profondamente rapidamente si è stati capaci di agire tra diverse istituzioni gli stati membri il consiglio europeo la commissione europea il parlamento per reagire a questa crisi che non ha precedenti dall'altro però è utile suonare un campanello d'allarme perché ed è una cosa che a livello forse tecnico in Italia si sa ma a livello di opinione pubblica no e la massa di questi fondi prestiti e sovvenzioni è tale che sottoporrà le autorità di gestione cioè chi a livello statale regionale è chiamato ad utilizzare questi fondi li sottoporrà ad uno stress enorme e mai visto l'Italia tradizionalmente è un po' lenta nell'utilizzo dei fondi strutturali a seconda delle diverse regioni ci sono delle performances molto diverse ecco a fronte di questo di questa situazione di partenza che è un po' a macchia di leopardo noi stiamo siamo alla vigilia di una ondata di finanziamenti mai vista prima e e quindi se io fossi un amministratore pubblico italiano chiamato a gestire i fondi credo che non dormirei la notte proprio perché l'impresa a cui devono fare fronte è veramente è veramente notevole assolutamente io mi sento di essere d'accordo con te anche se non è il mio campo di expertis ma oggettivamente andare poi ad impegnare in maniera efficiente una mole di risorse che è molto molto elevata è un lavoro di per sé e con questo io appunto chiamo in causa Stefano per chiedergli due cose principalmente la prima si collega appunto alla coronavirus response investment initiatives che ci ha presentato Iader e quindi chiedere a te che tipo di impatto queste iniziative hanno avuto per quanto riguarda il FESR quindi il vostro ambito di intervento e successivamente guardando anche al medio periodo visto che Iader ci ha già introdotto l'argomento qual è appunto quel set di misure o quali sono quelle diciamo iniziative che possono beneficiare di un supporto del FESR in questi prossimi due anni Allora per quanto riguarda l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus appunto il cosiddetto CRI si tratta come è stato detto dal mio collega di una serie di misure che hanno reso più agevole l'utilizzo dei fondi strutturali per quanto riguarda il FESR c'è stata una massiccia ridistribuzione di risorse all'interno dei programmi esistenti quindi che coprono il periodo 2014-2020 per favorire la risposta immediata risposta immediata significa principalmente assistenza alle strutture sanitarie quindi acquisto di materiale dispositivi di protezione individuali respiratori quant'altro inoltre assistenza alle piccole e medie imprese che sono quelle che hanno sofferto maggiormente dall'impatto immediato della crisi del lockdown in particolare e queste misure sono state principalmente finanziate attraverso la riprioritizzazione di fondi già esistenti all'interno del FESR in alcuni casi si trattava di fondi problematici o con progetti problematici oppure con dei ritardi oppure dei fondi non ancora impegnati tutti questi sono stati rindirizzati molto rapidamente su queste tematiche appunto principalmente spesa medica in tutto il suo complesso e aiuto alle piccole e medie imprese quindi qui si è partiti sostanzialmente ad aprile tutte le regioni italiane sono state coinvolte devo dire l'Emilia Romagna è stata la prima regione italiana a conseguire una riprogrammazione sotto questo strumento e in particolare ha spostato ha deciso di impiegare una piccola parte del proprio programma attuale circa 13 milioni di euro per finanziare la ricerca dentro i centri di ricerca emiliani e le imprese emiliane piccole e medie imprese emiliane specifica al covid in maniera tale da poter sviluppare una serie di servizi e prodotti che possono poi essere utilizzati da tutte le altre imprese e da cittadini vari per affrontare la risposta al covid questo è partito a metà aprile ed è stato approvato a metà maggio quindi già a metà maggio i primi soldi sul territorio dell'Emilia Romagna sono stati dispiegati attraverso i fondi strutturali attualmente stiamo discutendo con le autorità regionali un secondo impiego di questo strumento con uno scopo molto più alto scopo e anche con risorse molto più alte ma appunto ancora non finalizzato ci stiamo lavorando in questi giorni in generale in Italia attraverso questo strumento nella fase iniziale del breve termine di risposta sono stati spostati sono stati impiegati adesso non mi ricordo la cifra attuale ma siamo sugli oltre 4 miliardi di euro di appunto risorse del fondo europeo di sviluppo regionale che sono state indirizzate verso la risposta al breve termine al covid questo andrà avanti ancora per qualche mese e in totale penso sarà senza dubbio un volume molto molto importante dispiegato abbastanza rapidamente appunto nel caso dell'Emilia Romagna stiamo parlando di qualche settimana per almeno la prima parte di risposta quindi questo è lo strumento l'iniziativa di investimento risposta al covid che mirava esclusivamente al breve termine quindi con risorse esistenti perché nel breve termine appunto soldi nuovi non si creano non si creano magicamente ma quindi è stato permesso alle autorità regionali di rispiegare questo di queste risorse e c'è stato fatto in particolare nel caso dell'Italia un accordo tra la Commissione Europea lo Stato e le regioni per conferire delle risorse nazionali che possano poi riprendere coprire a loro volta i progetti che sono stati spostati dai programmi regionali europei per coprirli con risorse nazionali mani a tale che questi programmi e progetti verranno comunque attuati quindi questo è un accordo importante che è stato fatto dal Ministro Provenzano con le regioni e con la Commissione Europea e ha permesso l'impiego di diversi miliardi di euro in Italia sul breve termine parlando adesso spostando l'ottica sul medio termine sul medio e lungo termine ci sono gli strumenti all'interno della Next Generation EU che sono appunto stati presentati dal mio collega in particolare sul sul medio termine abbiamo il cosiddetto React EU che è una parte appunto di questo Next Generation EU di circa appunto 50 miliardi come accennato dal collega questo questo fondo si inserisce nella programmazione attuale quindi nei nei cicli del dei fondi strutturali nel caso nostro è il fondo del FESER per il 2014 2020 quindi è un'iniezione diciamo di liquidità abbastanza immediata perché va ad inserirsi in programmi e strutture esistenti e quindi sarà facilmente spendibile una volta approvato e questo è un po' un ponte tra il breve periodo dove ci siamo concentrati sulla spesa sanitaria e assistenza alle piccole e medie imprese e è un ponte appunto verso la ripartenza sul lungo periodo nel senso che si occupa ancora di come dire le conseguenze immediate della crisi quindi spesa medica e assistenza alle imprese ci aggiunge una dimensione di assistenza alla ripresa ossia un focus sulla transizione digitale e verso un'economia verde e questi due ambiti in particolare il digitale e lo carbon economy sono poi diventano poi il cuore invece della terza fase ossia della ripresa sul lungo termine che in termini di strumenti viene attuato attraverso quello che appunto è stato presentato già come il recovery fund cosiddetto recovery fund strumento per il recupero e la resilienza questo appunto è un mix di prestiti e sommezioni a fondo per tutto qui siamo veramente usciti dall'ottica di breve periodo quindi non stiamo più parlando di dispositivi di protezione individuale respiratori ma di far ripartire l'economia ristrutturare sul lungo termine il sistema sanitario e appunto è stato deciso di dare un focus su due particolari aree digitale e la transizione alla economia verde circolare a basse emissioni proprio per individuare due ambiti di spinta per il futuro dell'economia europea e italiana in questo caso questi due fondi sono gli ultimi due sul medio e lungo periodo sono attualmente in discussione ancora tra i colegislatori e questo non vuol dire che sono in ritardo in realtà questi fondi hanno un'ottica appunto di medio e lungo periodo il breve termine è stato affrontato come abbiamo visto dall'iniziativa per il covid e quindi appunto sono ancora in una fase di assestamento comunque sappiamo che avranno una dotazione molto molto significativa per l'Italia come appunto è stato già citato con appunto opportunità e anche problematiche che ne conseguono quindi questo è più o meno quello che ho da dire sul lato del FESR poi ecco se ci sono domande più specifiche beh ti ringrazio mi sembra che appunto da quello che entrambi avete presentato le conclusioni che possiamo trarre da questo momento di emergenza a livello di Commissione Europea sono molto positive una diciamo velocità di azione o reazione come giustamente sottolineava Iader e anche delle procedure inedite come per esempio quella di mettere a disposizione questo famoso fresh money delle risorse aggiuntive per la ripresa Assessore Uded sono state nominate mi metto all'interno di questa conversazione in quanto partner del progetto Dare sono state nominate due linee prioritarie di investimento fondamentali fondamentali per appunto il progetto e quindi il distretto della Darsena ma fondamentali immagino per tutto il territorio quindi la linea del digitale e la linea del green con queste priorità come come ci possiamo posizionare verso il futuro direi che sono le linee per posizionarsi nel futuro nel senso non c'è futuro forse senza insomma una visione che che integri queste diciamo queste linee di azione linee di intervento nel senso che il potenziale visionario del progetto Dare lo avevamo colto nel senso che nel momento in cui ci è stato proposto e abbiamo iniziato a ragionare sulla candidatura di Ravenna in questo in questa progettualità quindi sulla linea di finanziamento del Urban Innovative Action avevamo capito che andavamo a operare su diciamo linee e politiche che ancora non avevamo in essere nella nostra città ma secondo me nel nostro paese nel senso che Ravenna si candidava ad essere un laboratorio dove appunto sperimentare politiche ad alto tasso di innovazione nel senso che pensare a come rigenerare un quartiere attraverso la transizione digitale attraverso la conversione diciamo dei propri immobili diciamo nell'ambito del potenziamento dell'efficientamento energetico iniziare a ragionare con un'ottica pubblicistica al tema dei big data nel senso che la raccolta dei dati ad oggi la possiamo ecco ne vediamo gli effetti in un ambito che è più commerciale che di di costruzione di politiche pubbliche invece in questo progetto europeo pensiamo che si possano orientare creare scenari futuri attraverso appunto la raccolta di dati e la costruzione di quello che chiamiamo un cervellone che elabori e che costruisca questi scenari queste proiezioni e queste ipotesi quindi sicuramente dare contribuisce e contribuirà ecco a questo a questa riflessione sulle politiche urbane nell'ambito della transizione digitale dell'innovazione della rigenerazione dei quartieri credo che però il ragionamento sarà strutturale su tutte le politiche e incrocerà tutte le politiche non solo delle pubbliche amministrazioni locali ma anche del livello regionale del livello nazionale come già sta succedendo e lo farà permeando tutti gli ambiti ecco il nostro sindaco è un tema che la nostra comunità pone da tanto tempo ad esempio abbiamo parlato del abbiamo posto il tema recentemente sull'edilizia scolastica e come questa può essere diciamo affrontata appunto attraverso l'efficientamento energetico quindi abbiamo detto proviamo a mettere mano agli edifici scolastici e facciamolo immaginandoci edifici a impatto zero a impatto ambientale zero quindi immaginate quanto può consumare un edificio che ospita centinaia e centinaia di studenti e questo moltiplicato per migliaia di edifici in tutto il paese quindi sicuramente avere questa visione ed essere un po' più visionari aiuta l'hanno detto tutti coloro che mi hanno preceduto stanno per arrivare risorse che ecco le pubbliche amministrazioni non hanno vedono da tanto tempo ecco questo è il mio secondo mandato e il mio primo mandato è stato in un frangente di anni 2011 2016 dove per gli enti locali non c'erano risorse non venivano costantemente tagliate eravamo negli anni dei piani di contenimento della spesa pubblica eravamo nel momento in cui era difficile pensare e programmare investimenti c'era il tema del patto di stabilità che poi ricadeva sui vari livelli di governo in questo momento invece abbiamo la possibilità di pensare di immaginare di sognare un paese moderno un paese nuovo del quale abbiamo bisogno partendo dalle fragilità che questa pandemia ha scoperchiato in maniera chiara quindi dal tema sanità che abbiamo già citato appunto al tema ambientale al tema educativo al supporto al lavoro al supporto all'occupazione giovanile quindi questi temi declinati poi con l'ottica che dicevi tu quindi un'ottica di diciamo adeguamento di recupero sul tema del digital divide ma anche all'orientamento delle politiche in senso col tema della sostenibilità che in realtà ci accompagna da tantissimi anni ma che pratichiamo da pochi ecco può essere davvero qualcosa che ci mette nella strada giusta per rimodernare il nostro il nostro paese insomma assolutamente il periodo appunto tra il 2011 e il 2016 un periodo che è molto familiare anche a noi che lavoriamo nell'industria del crowdfunding un periodo in cui lo strumento si afferma crowdfunding si afferma proprio perché c'è tra le altre cose una carenza di fondi e sovvenzioni pubbliche a supporto di iniziative civiche quindi cominciano a nascere delle partnership quindi sicuramente in quel caso abbiamo dovuto un po' tutti fare azione di contenimento essere creativi con poco a disposizione invece prendo uno spunto che mi è piaciuto molto sul termine visionari questo momento in cui possiamo essere visionari e quindi ai colleghi della commissione chiedo possiamo essere così tanto visionari da aspettarci delle novità radicali per il periodo 2021 2027 ci sarà Mita parlavi prima di semplificazione questa grande semplificazione che tutti chiedono a gran voce ormai da anni sarà possibile riscontrarla nel prossimo nel prossimo periodo Yader lascio a voi la parola e poi passiamo a Stefano va bene allora sulla semplificazione io vorrei mettere un bemolle su questo cioè nella mia esperienza alla commissione ho visto che quando si si parla di semplificazione e si cerca di semplificare una cosa molte volte il risultato è l'opposto quindi semplificare va bene farlo è un'altra cosa allora Mita prima accennava a un campo in cui si sta semplificando si stava già semplificando prima della crisi e cioè passare da un tipo di contabilità ad un altro questo siamo già abbastanza avanzati e ciò rende la vita molto più facile alle autorità di gestione non c'è solo questo ci sono tanti campi in cui si può semplificare e l'importante è non semplificare a scapito della qualità non semplificare a scapito delle regole e non semplificare a scapito dell'efficacia delle azioni cioè spendere per spendere non solo non è positivo ma è negativo fa male all'economia a mio avviso quindi non farei un totem un mito della della semplificazione la semplificazione è giusto per seguirla laddove abbia un valore aggiunto la semplificazione è uno strumento non un fine quindi ecco i sogni sì io li lascerei però ad altre cose e cioè a cosa e all'interno di questo Next Generation EU c'è questo strumento il Recovery and Resilience Facility che è composto e qua già siamo nell'ambito quasi del sogno non solo di finanziamenti di sovvenzione ma anche di prestiti ma prestiti emessi a livello comunitario e tutto ciò sarà molto legato e qua siamo nel futuro nel lungo periodo sarà molto legato all'attuazione degli dei piani dei piani nazionali per lo sviluppo e la ripresa ecco all'interno di questi piani nazionali si potrà veramente sviluppare una visione ambiziosa delle riforme da svolgere a livello nazionale sapendo che già avremo disponibile uno strumento finanziario importante ecco direi che per una volta è possibile a livello nazionale avere dei programmi di riforma ambiziosi e costosi avendo già un certo un certo comfort finanziario previsto si tratta di fare funzionare assieme un livello squisitamente politico che è articolato tra i livelli nazionali e regionali e uno tecnico in cui si deve andare a gestire questa ondata importante di nuovi finanziamenti in modo strategico non in modo non voglio dire clientelare che questo è totalmente negativo ma anche semplicemente in modo abitudinario di routine no si deve cercare di avere delle strategie di lungo periodo e con una con una certa visione la visione di dove vogliamo andare che paese vogliamo creare più inclusivo più efficiente più verde ecco sono queste le sfide ma magari sul recovery resilience facility può aggiungere qualcosa a Mita sì beh mi inserisco velocemente vedo che molto è già stato detto sicuramente quello che vale la pena sottolineare come già è stato detto è l'importanza delle risorse che stanno per arrivare queste risorse sono veramente come Ghiadera appena detto paragonandolo al cosiddetto piano marsha stiamo parlando di quantità veramente significative cioè questo recovery resilience facility questo strumento per la ripresa e la resilienza che arriverà in maniera importante anche per l'Italia stiamo parlando di a livello europeo 667 miliardi tra sovvenzioni e prestiti le sovvenzioni saranno all'incirca 312 miliardi e mezzo e tutto questo da impegnare e decidere come spendere nell'arco di due anni cioè tra il 2021 e il 2023 quindi stiamo parlando di una concentrazione di risorse molto importante se per esempio la paragoniamo a quella che è la politica di coesione per il prossimo settennato tutta la politica di coesione per il prossimo settennato per tutti i paesi europei è all'incirca 347 miliardi 347 miliardi il recovery fund sono 667 miliardi in due anni invece la politica di coesione può essere spesa in 7 anche in 10 anni quindi stiamo veramente parlando di un'occasione epocale che deve essere colta deve essere colta nel modo giusto in maniera strategica ci sono le possibilità di attuare riforme e investimenti a lungo termine di ampio respiro su larga scala per esempio questo strumento si differenzia in un certo qual modo se vogliamo dai fondi della politica di coesione perché perché i fondi della politica di coesione hanno principalmente ma non esclusivamente un focus più regionale più locale questo strumento ci dà la possibilità di attuare investimenti su più larga scala a livello più centrale quindi per esempio può andare a supportare riforme penso alla connettività di tutto il paese abbiamo visto che durante la crisi il problema della connessione a internet per molte zone penso alle zone rurali oppure anche per famiglie che vivono in zone più isolate è stato un problema si può andare a potenziare tutto questo e questo può essere lo strumento giusto sta ovviamente alla capacità di visione strategica dei governi dei singoli governi nel decidere come meglio utilizzarle è sicuramente un'occasione da non perdere e in questo senso la semplificazione di cui tanto si parla può aiutare perché può andare ad alleggerire tutti quegli sforzi a livello di contabilità e burocrazia e quindi per me permetterà alle autorità pubbliche di concentrare le proprie risorse umane sul raggiungimento dei risultati che si vogliono raggiungere quando si vanno a investire questi soldi piuttosto che dover spendere l'ottanta per cento della loro giornata lavorativa magari a stare dietro a raccogliere documenti vari che a volte possono essere ottimizzati non sempre come giustamente ha ricordato il mio collega ma dove si può fare è giusto che è giusto che si faccia e adesso abbiamo la possibilità di farlo benissimo quindi io mi sono ovviamente permessa di prendermi una libertà nel nominare la semplificazione perché so che è sempre un tema che accende un po' il dibattito perché poi ognuno vede la semplificazione da un angolo diverso Stefano a te invece chiedo abbiamo parlato adesso con due rappresentanti diciamo del fondo che investe nelle persone come abbiamo detto in apertura quando invece parliamo della prossima programmazione il FESR sicuramente è un fondo che investe nelle infrastrutture ma c'è anche qualcosa per le imprese quali novità ci saranno a livello generico giusto una breve panoramica quindi il FESR per il prossimo periodo si concentrerà principalmente nelle tematiche della ricerca aiuto alle imprese digitalizzazione e transizione verde inoltre aggiungo mobilità sostenibile questi sono i pilastri diciamo principali per il futuro enormi novità voglio dire non ci sono rispetto al periodo attuale nel senso che per quanto riguarda il FESR stiamo parlando di investimenti strutturali di infrastrutture quindi di medio lungo periodo l'effetto novità senza dubbio si identifica con la semplificazione di cui si è parlato tuttavia c'è anche bisogno per quanto parliamo quando parliamo di infrastrutture di anche continuità quindi i grandi obiettivi del FESR non mutano sensibilmente tra un periodo e l'altro comunque si va ad investire principalmente sulla ricerca sull'assistenza e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e sulla transizione ecologica si parlava prima un po' di visione per il futuro quindi mi permetto in particolare di concentrarmi sul lato della transizione ecologica perché dimenticato di dire nell'introduzione oltre ad essere responsabile del programma per l'Emilia Romagna coordino a livello nazionale le tematiche relative alla transizione ecologica quindi l'energia l'ambiente il cambiamento climatico quando si parla di visione per il futuro qua bisogna parlare del Green Deal europeo il Green Deal europeo è una nuova politica più che politica un set di politiche identificato appunto dalla nostra presidente della commissione Wunderlion che ha come fine quello di traghettare il continente verso un obiettivo ultimo che è identificato nel 2050 con una decarbonizzazione completa dell'economia e della società europea questo quindi è un po' la visione per quanto riguarda il FESR il FESR in questo momento stiamo iniziando a negoziare per il prossimo periodo che quindi va fino al 2027 diciamo fino al 2030 perché ci sono regole di spesa che ci permettono di spendere fino al 2030 e questo è un blocco fondamentale per il 2050 come sappiamo il Green Deal europeo implica dei target per quanto riguarda l'energia la CO2 eccetera tutto questo deve essere realizzato diciamo sulle solite basi del prossimo decennio tutto quello che faremo a livello di finanziamenti per il prossimo decennio deve essere visto con l'ottica del 2050 e qui è dove il FESR gioca un ruolo fondamentale perché è sostanzialmente il fondo più importante per quanto riguarda i finanziamenti europei per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile stiamo parlando di rinnovabili di efficientamento energetico di edifici pubblici o edilizia sociale stiamo parlando di reti di distribuzione smart grids stoccaggio di energia stiamo parlando di adattamento al cambiamento climatico che in Italia è una problematica molto molto rilevante per il prossimo decennio in particolare quindi rischio sismico rischio idrogeologico e infine problematiche ambientali inquinamento dell'aria inquinamento del suolo ciclo dell'acqua ciclo dei rifiuti queste sono le priorità principali per il prossimo periodo e per il FESR c'è un obbligo di concentrare un certo quantitativo di risorse è ancora in fase di definizione ma siamo nell'ottica del 30% di tutto il fondo deve essere concentrato per l'Italia deve essere concentrato su questa tematica qua il che significa comunque un quantitativo abbastanza importante di risorse a cui si va aggiungere appunto il nuovo strumento del recovery fund dove anche qui abbiamo una concentrazione importante sulle tematiche ambientali ed energetiche in quanto in fase ancora di discussione ma c'è una concentrazione una richiesta di concentrazione del 37% del fondo quindi il fondo che andrà all'Italia dovrà essere almeno al 37% impiegato per la transizione ecologica quindi abbiamo in parallelo il nostro fondo il FESR che arriva fino al 2030 2027 e diciamo oltre fino al 2030 con un certo set di misure di priorità già stabilite in particolare con un'ottica di costruire un pilastro fondamentale della transizione al 2050 e dall'altra parte il recovery fund che contribuisce anch'esso in maniera importante il 37% alla transizione ecologica dove possiamo anche discutere dove stiamo discutendo in questo momento con le autorità italiane su le possibili sinergie e complementarietà tra questi due fondi quindi di solito ci saremmo dovuti trovare di fronte a una situazione in cui avremmo affrontato il prossimo decennio soltanto con il FESR per quanto riguarda la transizione ecologica ci sono altri fondi il Connecting Euro Facility ma l'Horizon sono hanno delle specificità diciamo particolari questa volta abbiamo la fortuna insomma non so se chiamarla fortuna perché diciamo deriva da una crisi molto molto profonda ma abbiamo l'opportunità diciamo senza dubbio di avere queste due piattaforme con cui poter portare avanti la transizione energetica e ecologica che per l'Italia sono senza dubbio fondamentali non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale e sociale quindi senza dubbio è un periodo molto molto interessante e abbiamo appunto di fronte delle sfide molto molto impegnative dire che non possiamo perdere io vi ringrazio ti ringrazio Stefano per quest'ultima panoramica e soprattutto per lo spunto di ispirazione per il lavoro che c'è ancora da fare di nuovo grazie a tutti voi per aver partecipato e per averci dedicato il vostro tempo spero che questo appuntamento sia stato appunto utile a tutti quelli che ci hanno seguito per capire che c'è un'Europa a contatto con i territori e a loro volta i territori vogliono hanno la possibilità gli strumenti anche finanziari per essere a contatto con un Europa quindi con un allineamento delle priorità io vi do appuntamento al secondo appuntamento del dare Financial Education Month che si terrà giovedì prossimo sempre in diretta streaming su Facebook e per adesso vi auguro una buona serata grazie mille grazie a tutti e a tutte grazie grazie buon lavoro